Preparati a automatizzare il tuo processo di spedizione. Clicca su amministrazione e poi sui miei indirizzi e pacchi. Visita la sezione miei pacchi e carica le informazioni riguardanti i tuoi colli importando un file excel o inserendo i dettagli manualmente. Compila tutti i campi inserendo le misure e il peso di riferimento. Collega il pacco all'SKU, il che significa che per ogni ordine contenente quel prodotto nello specifico il pacco sarà automaticamente collegato. Questa operazione non è obbligatoria ma è fortemente consigliata per ottimizzare il processo di spedizione. Imposta le tue preferenze relativa alla quantità multipla scegliendo di raggruppare nello stesso pacco gli ordinamenti lo stesso SKU oppure mantenendoli separati. Per finire inserisci un'etichetta per distinguere questa impostazione dalle altre. Se hai connesso un SKU puoi scegliere di modificare le opzioni aggiuntive. Imposta un limite di peso per singolo collo oppure attiva l'opzione che ti permette di raggrupparli tutti insieme. Ora che è tutto pronto inizia a spedire più velocemente che mai. Ci auguriamo che questa demo sia stata utile. Per qualsiasi dubbio non esitare a contattare il nostro team di supporto che sarà felice di aiutarti. a Grazie a tutti.